Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, questa è la 45esima uscita delle miniature di Naruto, Sasori. Più precisamente questa è la miniatura di Iruko, ovvero la marionetta di Sasori, la marionetta all'interno della quale si nasconde Sasori, all'inizio proprio di Naruto Shippuden, questa è la penultima miniatura dei personaggi dell'organizzazione Alba, infatti sono usciti tutti, questa è la penultima, adesso manca solo Tobi. E raga vi giuro questa miniatura sembra veramente veramente figa. Questa sarà l'unica miniatura che uscirà di Sasori, effettivamente potevano farla sia in questa versione che in versione umana insomma, umana anche lì si fa per dire, diciamo versione normale. Comunque prima di cominciare vi ricordo di lasciare like, commentare, condividere e iscrivervi al canale, passate al profilo Instagram che trovate in descrizione e attivate la campanellina per non perdervi nessun video. Se vi siate persi la collezione manga andatela a vedere, è uscita tipo una settimana fa. Detto questo direi di andare a vedere la nostra miniatura, ora diventerà tutta arancione, raga, ecco. Tanto lo so. Apriamo la confezione. Vediamo un pochino. Ok, abbiamo, come sempre, miniatura e fascicolo, andiamo a vedere prima il fascicolo. Vi giuro mi dà un fastidio quando diventa tutto così arancione, guardate che brutto, madonna, proprio fastidioso. Comunque, qua abbiamo il nostro Sasori in copertina. Ecco qua, Sasori della sabbia rossa. Vittima di un doppio gioco, ecco qua, un cabuto. Comunque, altri personaggi legati a Sasori. Ovviamente la vecchia Cio, la nonna e il compagno di squadra dei Dara. Qua un legame eterno, insomma, vabbè. Qui abbiamo le marionette ninja. Infatti Sasori era proprio un maestro delle marionette. Il poster. Fa cacare. Cioè, praticamente, la stessa cosa che c'è in copertina. Boh, raga, sinceramente, potevano fare qualcosa di più. Tanto più che la miniatura è i Ruko. Cioè, potevano mettere, boh, o un tipo lo scontro con la vecchia Cio e Sakura o... Boh, non lo so, però non mi piace tanto sto poster. Cioè, carino perché Sasori, vabbè, è sempre un bel personaggio. Però, raga, insomma, potevano fare un po' di più. Tanto più che, come vi ho detto, la miniatura era i Ruko. Cioè, perché hanno messo Sasori così? Potevano mettere lui i Ruko, non so, ma fare qualcosa di più. Qui hanno proprio preso l'immagine della copertina e l'hanno messa qua. Ma, vabbè. Comunque, poi abbiamo i migliori momenti di Sasori. Almeno qui un po' di immagini le hanno messe. Qua. Qua questa cena qua, ragazzi, bellissima. Mamma mia. Mamma mia. Poi qua Cancuro che usa la sua marionetta durante la guerra. Qua va bene Naruto e poi il villaggio del suono. Che non c'entra niente con Sasori. Comunque il villaggio del suono, da dove appunto viene anche Kimimaro. Personaggio bellissimo. Cioè, figo, diciamo, ecco. E la prossima uscita, ragazzi, finalmente la mia bellissima Inata. Quanto la stavo aspettando. Qui sul fascicolo è bellissima. Qua in realtà non sembra fatta troppo bene. Soprattutto per la testa, insomma. Però speriamo, speriamo non mi rovinino la mia bellissima Inata. Vedremo prossima settimana. Tra l'altro, ragazzi, dalla 46esima uscita poi saranno settimanali. Ora sono, vabbè, 14 inali e poi saranno settimanali. Comunque, questo era il fascicolo. Direi adesso di passare alla miniatura. È parecchio grande. Andiamo ad aprirla. Raga, non... Cioè, sembra fatta bene. Sembra fatta molto bene. Quindi adesso andiamo ad aprirla, vediamo un pochino. È enorme. Io pensavo fosse... Quando l'ho vista ho detto, ma... Doveva essere una miniatura speciale. E invece no, meglio così. Leviamo la plastica ed ecco qua... Non vuole uscire. Ecco qua il nostro bellissimo Sasori. Base ovviamente col nome e specifica Iruko. Ma adesso leviamola e andiamo a vedere la miniatura. Come è fatta, insomma. Allora, già al sotto fa veramente cagare. Ma proprio tanto. Però dai, la cosa positiva è che non va vista da sotto. Tanto poi rimarrà appoggiata così. E quindi il sotto, anche se è fatto male, possiamo diciamo... Possiamo tralasciarlo, ecco. In generale, raga, è fatto molto bene. Perché vedete, i dettagli ci sono. Guardate anche la coda qua, come si rigira fin qua. La sua coda velenosa. Fatta è fatta... Cioè, bene è fatta bene. Però ragazzi, guardate il colore della veste. Cioè, vedete, ci sono tutte queste sfumature. Tutte queste sembrano spennellate più chiare, più scure. Boh, ditemi, in video... Sì, si vedono anche in video. Cioè, per vederla anche in video, di solito non rende, ma... Per vederla anche in video... Guardate, vedete? Qua è completamente nero e lucido. Qua su è grigio e più opaco. Guardate. Si vede benissimo qua sul braccio. Questo, raga, mamma mia, però. Ma come si fa? Cioè, queste veramente l'hanno fatta col culo. L'hanno messa lì, hanno preso il pennello, fum, 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 così e basta. Io, boh, non ho parole. Però, dai, in generale è fatta abbastanza bene. Ve la faccio vedere così, velocemente, girandola. La coda mi piace molto. Bello che hanno messo questo dettaglio, insomma. Mi piace. E niente. Questo... Questo è Sasori. Ben, raga, questa era la 45esima uscita delle miniature di Naruto. Sasori. Iruko. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ditemi se anche... Se l'avete presa, appunto, se anche la vostra miniatura ha queste imperfezioni qua. Comunque, nel complesso è fatta bene. Insomma, ditemi anche un po' voi... Cioè, insomma, cosa ve ne pare. Io, ragazzi, spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se anche voi state comprando queste miniature di Naruto. Se prendete solo quelle dei vostri personaggi preferiti. Insomma, ditemi un po'. Io per adesso le prendo tutte. Ricordatevi di lasciare like, commentare, condividere e iscrivervi al canale. Passate dal profilo Instagram. Attivate la campanellina. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao, raga.